Antonio, allora ascolta, io prima di concludere vorrei semplicemente dire due cose. La prima è che anche in Calabria, ma soprattutto in Italia, il turismo rivolto alle persone con disabilità sta crescendo, tant'è che siamo arrivati a oltre il 26%. Chi volesse avere informazioni per quanto riguarda l'accessibilità delle spiagge in tutta Italia può consultare un sito che è www.disabili.com dove ci sono divisi per regione anche gli stabilimenti accessibili e che comunque c'è la possibilità anche di segnalare qualora non ci siano, diciamo, stabilimenti accessibili. Poi vorrei fare un piccolo appello. Adesso questa è una cosa un po', diciamo, positiva e buona, perché? Perché tu ne hai parlato. Tu hai parlato dell'Unitalsi. Bene, in questo periodo l'Unitalsi, come tutti gli anni, promuove le sue attività sul territorio con la vendita di questo. C'è l'uovo di Pasqua quest'anno? Ecco qua. Queste sono delle uova dell'Unitalsi. Io mi sto occupando insieme degli amici della vendita di queste uova. Che cos'è l'Unitalsi? Per chi non lo sapesse, lo diciamo, l'Unione Nazionale Italiana trasporto ammalati all'URD e santuari internazionali. Lo abbiamo detto coincidenza in questa trasmissione. Queste uova qui costano 8 euro. Chi volesse, diciamo, averle, io faccio passare in sovrimpressione i contatti per poterli acquistare, tanto ce ne sono in tutta Italia, ma per la, diciamo, per la città di Lamezia e per alcuni paesi, come per esempio Soveria Mannelli, se ne occupano degli amici. Quindi acquistando quest'uovo, 8 euro si può contribuire ai viaggi dell'Unitalsi, ovvero far viaggiare te e tutti gli altri che, insomma, non vogliono rimanere così in casa. Vogliono viaggiare e vogliono andare a vedere luoghi che, insomma, siano accessibili. Io, allora, aggiungo che da buono, amante della cioccolata, ne ho acquistato già quattro. Quattro? Bene. Quindi, Antonio Saffrioti ha acquistato quattro uova dell'Unitalsi. Fallo anche tu, mi raccomando, ci stai ascoltando da casa. Bene, quindi acquistate almeno un uovo dell'Unitalsi. La cioccolata è buonissima e contribuirete a fare qualcosa che è utile, ovvero far viaggiare, non soltanto con la fantasia, ma fisicamente, le persone con disabilità e tutti quelli che poi stanno insieme alle persone con disabilità, quindi parenti, amici, ma anche i volontari dell'Unitalsi, perché i volontari dell'Unitalsi fanno un lavoro bellissimo. Io invito tutti a partecipare all'attività dell'Unitalsi o a provare ad acquistare queste uova. Quest'anno sono le uova, quindi acquistiamo le uova dell'Unitalsi. Quindi, dai, abbiamo fatto anche questo piccolo spottino, diciamo, di beneficenza promozionale. Io... Grazie. 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 Grazie.